La sua versatilità emerge anche nel suo ruolo di showman. In collaborazione con Alan De Luca e Lino D'Angio ha dato vita allo spettacolo Lezioni di Napoletanità. Questo show unico mescola le lezioni divertenti con canzoni, imitazioni e monologhi dei due attori partenopei, creando uno spettacolo esilarante e coinvolgente. Premio B-News 2023 al professor Amedeo Colella, premia dottor Filomeno Caruso, direttore Andrea Salvatore Guerriero. Grazie, grazie professore, assolutamente. Professore noi vi ringraziamo, siamo veramente molto onorati di avervi qui con noi a Baiano, in questa piccola località nella bassa Irpinia. Purtroppo uno dei miei difetti è, il mio soprannome è 100 lire può far parlare, 1000 lire può far stazitte, quindi siete avvisati che se non cacciate la 1000 lire io comincio a parlare e se ne parla domani mattina. Però qualcosa devo raccontarvi. Anzitutto Cap Tazio, benevolenza nei confronti del popolo della bassa Irpinia, della zona di Baiano, questa è una delle zone dei prodotti di eccellenza straordinaria, è stata citata la nocciolina prima. Io racconto sempre che con grande orgoglio, quando qualche volta ci fermiamo sull'autogrill e pigliamo il wafer a gusto nocciola, quello è scritto, soprattutto in varie case, è scritto napolitanes, però molti mi chiedono perché è napolitano, va a fare napolitana, sì in realtà no, è esattamente così, quello significa esattamente napoletano, perché anzitutto la nocciola, insomma fin da 2000 anni era detta dai latini nux avellana, quindi questo piccolo cosino, in spagnolo nocciola si dice avellana, in portoghese avellà, questo significa che metà del pianeta, del continente, chiama con il nome di questo piccolo comune qui da queste parti, la nocciola, questo è un motivo di orgoglio che già servirebbe a inorgogliere tutti quanti, ma soprattutto, cioè portoghese e spagnolo vuol dire veramente metà del continente, ma soprattutto la cosa importante è che quando Joseph Manner a fine 800 inventò questo wafer, questo biscotto straordinario, per dire che a lui non è che aveva usato una nocciola qualunque, a piemontese per dire, ma aveva usato la migliore nocciola europea, lui chiamò quel biscotto, la napolitana in realtà, la nocciola di San Paolo Bersito, del Nolano, la nocciola di Avella, di Montella, tutta quest'area, era una nocciola napoletana, e per dire che aveva usato la migliore nocciola del mondo, lui scrisse Napolitaner, tant'è vero che quando dopo la scoperta dell'America arrivò l'altra nocciolina, la rachide, il peanut, mi subito chiamai la nocciolina americana, come a dire, e ancora molto dopo 500 anni a chiamai la nocciolina americana, che l'è nata a costa, non mi scamma la casetta, ecco per dire, la nocciolina americana, questo è, dopo aver fatto però Cappatazio e Benevolenza nei confronti del territorio baianese, naturalmente l'idea di fare divulgazione culturale e di provare a divertire raccontando la storia, la lingua, è una cosa che io sostenevo da anni, ma tutti dicevano, ma sa che palla, cioè tu vai là a raccontare storie e borbonne, e invece poi ho scoperto che c'è una condivisione di questi argomenti straordinaria, perché noi siamo portatori inconsapevoli di valori straordinari, non lo sappiamo, io ho tirato fuori da ognuno di noi quello che tutti già conoscevamo, perché noi parliamo arabo, nel parlare napoletano, nel parlare tutti i subdialetti dell'Italia meridionale, noi parliamo alla fine tutte le lingue del mondo, perché parliamo arabo, greco, latino, parliamo tutte le lingue di quelle che sono al Palazzo Reale di Napoli, parliamo normano, svevo, angioina, ragonese, francese, spagnolo, parliamo fino anche Savoia, parliamo fino anche americano, parliamo tedesco, perché noi siamo riusciti a trasformare il fatto di essere sempre stati dominati in una grande opportunità e quindi abbiamo preso il meglio di ognuno di essi. Solo due minuti per farli, giusto per dire una cosa divertente, perché altrimenti so che non voglio togliere tempo a nessun altro, noi parliamo latino, aceras, opurtusa, lacert, è tutto latino, io faccio una rubrica che si chiama Nisciuna nasce imparata, pochi giorni fa ero a via Toledo per fare un servizio sulla parola ammuina, perché via Toledo a Napoli è la via più ammuinata, la pasta è uno che si scugnizzi napoletani, sta vicino al microfono con la telecamera e fa l'ota, l'ota a me, l'ota, bravo, bravo, vabbè stop, rifacciamo tutto a capo, grazie, bravo. Poi ci rifletto, lui aveva detto l'ota, l'ota è dal latino lutum, che significa fango, fanghiglia, pensa che lingua solenne, a questo punto però mi giro e analogamente in latino gli rispondo, ne è lutam, che viene dall'etamen, che significa sterco, escremento. Ecco, abbiamo amabilmente io e lui conversato in latino, l'ota è lutam, per dire, è una lingua solenne, capisci? Anche quando noi parliamo arabo, ma fa una cosa shue shue, shue shue arabo, o mortal misindota avuta da tabut, che in arabo è la bara, oppure gli arabi, sapete, indossano quel pantalone che ha quel cavallo basso fino alle ginocchia? Quello in arabo è la wadara, la wadara, e a noi quando ci scende qualcosa da quelle parti? Per noi ci scende la wallera, wallera è arabo, vedete? Anche nel turpiloquio abbiamo delle origini, parliamo greco, greco, che ne sa, chile è un zalanute, un zalanute, un zalanute è da inselenito, l'uomo che ha sempre la testa nella luna, da giannupak, da panchero, acresommola, da chrisos melon, pomo aureo, avasnicola, laccio, dal greco, beh ce n'è una un po' volgare, però voi sapete, quando un napoletano sta per dire qualcosa che potrebbe risultare sconveniente all'orecchio di chi ascolta, basta che dice, con decenza parlando, quando ha detto con decenza parlando c'è quella parola che descrive la natura femminile, il fiore femminile, quella che comincia con P e riempie la bocca, com'è quella, un po' volgare, quella lì, quella lì che comincia con P e finisce con Uchiacca, ecco così, ecco, e dal greco, piur chiakos, piur piros in greco significava fuoco, chiakos significa antrovalle, piur chiakos è la valle di fuoco, e sulla valle di fuoco direi che è il caso di chiudere la parola. Professore, le volevo chiedere, visto che lei negli ultimi anni si è dedicato completamente alla città di Napoli, lei ha detto 50 anni quando ha cominciato, e ora ce n'ho 61, quindi è diverso. Che idea sei fatta di Napoli? Ah, non è una cosa facile, è una domanda complicatissima, è una città che un giorno ti porta in paradiso e il giorno dopo ti porta all'inferno. Io la racconto sempre come città diversamente normale, nel senso che il concetto di normalità percepito nella città di Napoli è un po' diverso da quello che altrove... Guarda, dico due cose, l'ospedale più antico, che ancora in funzionamento, si chiama Incurabili, ma chi si ricoverasse da un ospedale che si chiama Incurabili? Noi abbiamo due linee metropolitane, come è noto, la linea 1 e la linea 2, però poi il sindaco Manfredi ha annunciato la nuova linea metropolitana che apre a gennaio, la linea 6, a domande che storge spontanee, a 3, a 4 e a 5, a Rostano, ti menumeremo come le magliette dei giocatori del Napoli. Ecco, diciamo, è una città diversamente normale, e comprenderla è complicata, però Napoli è come una mamma, quindi noi la adoriamo in maniera, diciamo, globale, e quindi con l'amore per la mamma non si discute. Parentesi divertentissima, grazie al professor. Dall'altra cosa, questa cosa dell'amore per la mamma, l'ho detta, che domani, proprio domani, Repubblica mi dedica, amen, speriamo, una pagina intera, i volti di Napoli, e c'è la domanda, Napoli cos'è per te, a città mamma, e quindi mi sono ricordato. Domani su Repubblica sono molto contento. Insomma, è un momento buono per me, non so per quale motivo, ma è un momento straordinario. Grazie, professore. Un momento bello e meritatissimo, professore Colella. Assolutamente, grazie, grazie mille, professore. Ancora un applauso al professor Amedeo Colella. Grazie.